Parlerà, riferirà ai magistrati? Vedremo, ora faremo l'udienza di condali, la posizione di vicepresidente. Leggevo però che ha detto che vuole collaborare. Non so, non vedremo. Ci sono ancora molti punti che non sono stati chiariti, perché questa confessione è lacunosa? La confessione è quella che è la dichiarazione che è interessata a lei. Un momento ottobre, vedremo. In che stato d'animo si trova? Voglio dire, è chiaro che non è uno stato d'animo. Ma sta prendendo l'atto, chiaramente, sempre di qui di quello che ha fatto. Guardi, ovviamente è chiaro che la riflessione aiuta. Grazie.